per avere l'assicurazione la cosa bella sai qual è che siamo al 6 di lui e mancuno tenava tenda testa testa la testa la testa la testa sta andando è una cosa il pazzo qua sono io non sei tu ma non è davvero sicuro raga non so se piangere o se ridere ve lo giuro non so se piangere o se ridere poi venne pippo marito pazzo c'è toglier dito c'è metter capo poi vengo io che solo zio c'è lever suo c'è metter mio io me l'aspettavo un po' diversa me la ricordavo un po' differente diciamo mi sono distratto dei secondi a guardarla so che non dovrei farlo perché sono pubblico ufficiale e le pagherò qualunque danno della sua auto no non si preoccupi si preoccupi lei come si sente lei come si sente tutto bene si no e per fortuna ho su la prego io che non si è fatto male la prego no no ti è tranquillo lei che grado è? io si non la faccio ente ah non la faccio ente è una bella macchina comunque tratti bene ma tu non vuole ma perché non vieni in polizia capito 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 lo siamo andando a salvare si però dopo troviamo qualche ragazzo si chiama tre solo una cosa gente ho che gps fortesemente non vorrei incazzarmi capo abbiamo superato una Lamborghini ha visto? ma io non gli avevo detto là di andare comunque gli avevo detto di andare su un'isoletta ma non c'è più gps l'hanno sequestrato non lo so so solo che non risponde più radio è qua era l'ultimo gps ti ho messo il navigatore c***a madonna 4 km che è successo? ma è una leggera bestemmia ma di chi scusa? questo cazzo stronti in culo non si dicono le bestemmie c***o ma io mi sa che ha fatto la caricida la cartella vado in rubrica e non ti risponderò ma che c***o sto facendo? e cioè tipo l'ho puntato a giro con la pistola e ho dovuto sparare con l'aereo aspetta purgher fermo purgher sono le crocs minchia le crocs ho fatto bene guarda che belle sono comode si guarda vieni che andiamo in banca vieni poi ti faccio conoscere un po' la setà ok lui è i zizi piacere 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 tutto mio oh porca miseria cos'hai detto tu scusa? pensa eeeh cos'hai detto? è in italia ci salutiamo in questo modo e tu c***o ci chiami tua madre oh madonna ma mia madre è veramente una p***a non me ne frega un c***o infatti chiamaci lei azzardo ti un'altra volta e ti faccio fuori no no ma non vogliamo no no non vogliamo 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 vieni qua che ti dico una cosa benvenuto comunque allora è una città accogliente comunque come prima relazione insomma chiami zoccon una signorina sembrava sembrava una persona che non ma che c***o scusate mi sto facendo sotto scusate ragazzi oddio ma che sa fa ma che c***o ma che c***o ma bella c***o mi dicevo scusate c***o 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 no non so se la sto facendo a prendere il c***o ragazzo non sto cammando non sto cammando ma tutto è bene ma tutto è bene ma tutto è bene ma tutto è bene ma è normale che parla così c***o ma ti rendi cosa porco ma vedi che sta veramente fuori da cabeça questo ma il c***o ma il c***o ma il c***o no io io no allora te lo dico nel senso un atteggiamento del genere mi fa girare i c***o perché c'è una so no 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 ascoltami c'è un livello che tu non puoi varcare c'è un livello che si capisce che si capisce vai via vai così a caso ovviamente se guru dell'rp aspetta aspetta oh tu chi c***o sei eh mi raccomando le macchine che non si vedono morti niente leo e leo c***o aspettate ah ok apposto e no sai ma roba di mafiosi cosa vamo sparare in destra perfetto spara mucca no no perca puttana una tir eh si vuole dell'angelo eccomai vuole dell'angelo no no niente ahahahah questa è che stava entrando là l'autista e lui la borghi boom sta andando a botta ahahahah e stavo a rocciare uscita ahahah ahahah scendete dal veicolo ora oh lei va a stare in sala ambecille svegliate ma checco sei la gitara no dove c***o fai checco vuoi sparare no no ascolta mo scendo io li faccio al volo stai calmo stai calmo ma sei un genio sei un genio scappa scappa sei un genio non c'è mai pensato vabbè dai quando volete quando volete si rita tanto in città da oggi ah pure voi oggi è arrivato lui si stanno andando un po' no io provengo da un'altra città mi sono trasferita qua mi sono trasferita qua cambiata solo e come mai si è trasferita curiosità perché nell'altra identità ero entrata in una mafia sono durata due ore guarda signorina fermiamoci qui per cortesia perché? no basta così grazie arrivederci oh tu ti volevo dire che sono durata due ore mi sono rotta i due giorni e mi sono nata hai fatto bene hai fatto bene torbella zona che rende no no più che altro ogni tre secondi in due ore caffetteria caffetteria metà la metà la metà la mi sono rotta le palle io mi voglio di un piccià a tutti però è certo me l'ho dimenticata la sincerità prima di tutto signorina no perché il problema è che quando sono uscita mi sono dimenticata che se io esco da un gruppo mi muoiono morta è certo però comunque quindi che hai fatto hai cambiato identità giusto? no veramente non sono più entrata perché poi un long island è? e basta un long island quanto hai pagato? adesso ho una fattura di mille ma adesso 400 il signore ma la fattura di mille io perché me ne fatti perché me ne fatti a 6 è però 400 l'hai detto però e a me hai fatto 600 400 e stamattina 200 e poi chiami i tuoi amici per non perdere il futuro però senti io stamattina non stavo ma che vuoi stamattina guarda è una 10 minuti fa sei venuto qua per da fastidio ma che vuoi no è perché tu mi hai fatto risolvere ma cominciamo di nuovo questo rip oh no vedi vedi